Caccia a torpediniere! Missile in arrivo. Testate le milchie, unsevo il fler! Lanciamo degli scelte! C'è tra cura a tutti ieri. Accanto passaggio, ottimo test. Agni su riscaldate. Aggancia quei versanti! L'armamento di passaggio neutralizzato. Agni su riscaldate. Agganciali! Pertaglia d'intrusso! Ore tre, Fieber! Ore tre! Missile in arrivo. Ritraturato! Caputa! Caputa! Poca, man! Roca! Marsızù ho traders. E' entrato, signore. Ancora due. Corre una, in basso. Sia una, no. E' tra cura di critica. Nemico, corre una. Pertaglio neutralizzato. Una nave nemica risulta ancora attiva. Sato, fuoco sul caccia torpediniere nemico. Difese aeree. Facciamo saltare tutto. Ricevuto. Difese aeree in avvio. Passa i cannoli in cima. Armi sulle scaldate. Presa aeree o snipe. Resta in volo. Armi sulle scaldate. Armi sulle scaldate. Salterà in aria. Versaglio distrutto. Ottimo. Squadriglia. Qui è Scar 1-1. Rotta per la Retribution. Rientrare. Ricevuto. 3-4 in rientro. Vedo la Retribution. 3-6, Roger. Raggrupparsi, rifornirsi e inseguire. Torniamo sulla nave tedesca. Alta a velocità. Tau, fixo ruzzo. CVS con togliamento. Qui ho delle letture anomale. Eden, controllo pressione statica. Sono Scar 2-1. Scar, fuoco su quella superporta aerei. Roger, Ethan, a te i comandi. Io sparo. Io sparo. Mai l'ordine. Dai, io faccio la lancia. Tu chiedi un po' di rinforza. Quando l'oniglio sei l'incorso dell'Ulithus-Moth. Avega verso. La morte non è il rispondente. Sai, sai, vai da me. Mi chiede in arrivo. Abisci. Si, mi domanda. L'accia agganciata. Adesso. Adesso. E dai. E tu mi ha preso. E tu mi ha preso. E tu mi ha preso. Stai con lei, Ethan. Fuoco sul cannone, uno, due. Fatto, attenzione, il bersaglio è ancora operativo. Abbiamo perso metà flotta. Retribution, ritirata, ritirata. Retribution, rimovimento per collisione tattica. Voglio rafferrurarla. Annullare la collisione. Ordine del Capitano, uno, uno. Andate lì. Qui Retribution, abbiamo vittime a borgo. A tutte le unità, la Retribution è nei guai. Concentrate il fuoco sulla superportaerei. Unità squadra, attacco in corso. Attenzione. Addosso! Hanno saltato. A tutte le unità. Il nemico si è ritirato. Zona sicura. L'Olympus ha sterminato la flotta. Rientriamo. Atterriamo sulla Retribution. Fai strada. Ricevuto. Retribution a Scar 1 chiede il permesso di atterrare. Ricevuto. Permesso accordato. Pista 2 Lima. Roger 2 Lima. Arriviamo. Aggancio in corso. Aggancio riuscito. Ora ci pensiamo noi. Charlie Delta, ricevuto. 1-1 Retribution. Che cazzo è successo, Gator? La manovra di collisione ha provocato vittime. Qui serve una barella. Tenente Reyes, ti raggiunga immediatamente. Plancia, chiudo. Hai sentito, Solta? Sì. Qui c'è un gran bel casino, Reyes. Solta, tutto bene? Fermativo, e tu? Direi di sì. Ethan? Alla grande. Davidson, ci tiri fuori da qui. Ci provo uno tuo, i cavi sono saltati. Ok, problema risolto, Tenente. Bene. Ci sono, signore. È un piacere rivederla, Tenente. Close. Fallo uscire e metti subito il Jackal in riparazione. Subito. Vuoi tira una brutta aria, signore. Sotto ufficiale Ethan, lei è Gibson, il controllore aereo. Ecco la Retribution. Ho quel che resta. Perché vuoi verla fatta? Mi paga per prendere decisioni strappiare. Avvisi la plancia. Dica che dobbiamo parlare con il capitano. La plancia è isolata dal momento dell'attacco. Ethan sta con Gibson, fa come ti dice. Ricevo ancora. Come siamo messi? Quanti sono rientrati? È rientrato Scar 2. E poi? Solo voi. Porca puttana. Guarda qua. Dobbiamo parlare con il capitano. Sì. Non si sacrifica l'equipaggio quando si è in difficoltà. Andiamo in plancia. Serve un'iniezione intravenosa. Tutti gli ufficiali operativi a rapporto in plancia. Ripeto, ufficiali operativi a rapporto in plancia. Cazzo. Ci hanno fregati. Proprio fregati. Visto come è finita la parata, tenente. Tutti gli ufficiali operativi a rapporto in plancia. Ripeto, ufficiali operativi a rapporto in plancia. L'ingresso è bloccato. Serve subito un evo gas! Sì. Un capitano protegge i suoi uomini. Doveva ripiegare e basta. Al lavoro. Ti aiuto io. L'agente maggiore Omar? Il capitano ha avuto coraggio. Ci è costato troppo. Non doveva succedere. Non così. Con il dovuto rispetto, tenente, ha fatto il suo dovere. Ha messo in fuga il nemico. Ha il dovere di riportare a casa i suoi uomini. Non sempre, tenente. Non sempre. Fate largo il capitano! Dov'è, Boz? Dov'è il capitano Holder? Qui, signore. Gaetor. Il capitano è morto. Caduto con la sua nave. Ehi, Nick. Sì? Puoi farcele. Sei il migliore tra noi. Detto da te un bel complimento, Nora. Te lo meriti, Ryder. Ti lascio tranquillo. Legend. Ok. Sei pronto. Sbaglio o vedo un legend? Isolare la plancia. Capitano, pronti al salto. Rotta inserita. Salteremo al suo segnale, signore. Pronti? Signore, ora è autorizzato ad attivare l'accensione dei motori per il salto. Bene. Pronti a saltare? Ho il capitano Ferran della Tigris in linea. Passamela. La Tigris salterà appena fuori dall'area operativa. A controarrivo, resteremo in appoggio a I-Marin. Buon viaggio. Chiudo. Pronti, capitano. Saltare. Allarmi collisione. Salto in tre, due, uno. Computer a fuoco, settore tre. Stato? Livello di precisione, novantasette per cento. Integrità strutturale critica. Ce la facciamo, Gator? Pronti a entrare? Avanti tutta. Usciamo dal salto. Salto in tre, due, uno. Spegnete l'incendio! Subito. Sì, tenente. Capitano, Tigris in supporto a lei. Mi avvisi quanti i Marins sono pronti all'inserimento. La Tigris è pronta. A te il comando, Gator. I ordini. Tenente, capitano, ci vediamo in via. Capitano Rey, la squadra di Omar è al ponte di Spartan. Perché questo assalto è guidato da lui? Operazione congiunta, Solt. È il marine di grado più alto. Ma ti ha mancato di rispetto. Abbiamo ben altri problemi. Il sotto ufficiale Grif sta aspettando nell'armeria. Grif? Tenente. Ho cercato di dare una pulita, sapendo che sarebbe venuto il capitano in persone. Sono sempre io, Grif. Ok, piuttosto. Scegliamo il suo equipaggiamento. Quello è un bulk, Grif. Arma energetica. Ho appena ricevuto la scansione dalla superficie. L'ho stampata subito. Qual è la missione? Riprenderci il gateway lunare. Le potrebbe fare comodo un'arma energetica. È letale contro i robot del Sedef. Ho anche dei buoni accessori in vendita, visto niente di interessante. Il gran finale, l'equipaggiamento. Ho delle granate, affidabili come sempre. E un po' di roba nuova. Seeker e attrezzi per violare. E così dovrebbe andare. Torni vicino ora, capitano. Sempre e comunque. Scatemi l'inferno, siamo tutti con lei. Non devono averla ditta, Remis. Dubito sia una procedura standard. Ci manca tutto, ma possiamo farcela. Da quando abbiamo le pezze al culo? Da circa un'ora. Attenzione, forze di terra al ponte di sparco. Ripeto, forze di terra al ponte di sparco. Andiamo. Forza. Comandante. Non è bello essere promossi così. No, signore. È l'uomo giusto per il comando. E Alder riposi in pace. E Langa? Ci vorrà un po' per ripararlo. Ethan, tu scenderai con noi. Ricevuto, signore. Brooks, vi preparerà. Capitano Reyes? Tenente? Vi serviranno dei propulsori. Grazie di tutto, caporano. Calma, sono. Sono calma, Reyes. Parla il primo tenente. Prepararsi all'operazione sul ponte di sbarco. Che fanno questi sistemi? Potenziano salti e corsi sui muri. Più controllo a zero gravità. Non lo sapevi, Ethan. Lo sapevo. Ma trovo la voce del tenente rassicurante. A bordo, signore. Tenente. Non è a posto. Bravo, uno dietro a sinistra. Sentente. Godwin, soldato, puoi salire. Diciotto, signore. Più i nostri ufficiali. E la lattina. I tuoi ordini, drone? Sono assegnato al capitano. E sono un androide, non un drone. Ma apprezzo l'umorismo, signore. Non chiamarmi signore, lattina. Tenga d'occhio il robot. O lo butto nello spazio. O lo butto nello spazio.